Maurizio Lupi, nato e cresciuto nel quartiere degli Olmi, sposato con Manuela e papà di tre figli, tifoso del Milan e appassionato di corsa e maratona. Laureato in cattolica entra in Fiera Milano dove diventa amministratore delegato di Fiera Milano Congressi dal 1994, in carico da cui si sospenderà nel 2013. Nel 1993 è cominciata la sua avventura politica in consiglio comunale, dove è stato nominato assessore all'urbanistica nell'allora giunta di Gabriele Albertini. Nel 2001 è eletto al Parlamento dove lavora ancora oggi, dopo essere stato ministro delle infrastrutture sia nel governo Letta che nel governo Renzi. È capolista della lista Milano Popolare che appoggia Stefano Parisi. Nel loro programma la riqualificazione delle periferie, un piano per la sicurezza, la famiglia e i bambini al centro.